salve a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione horror ieri è uscito su rai 4 questo film ovvero cobweb che avevo già visto non ho visto il film nel senso ho visto che era uscito sto film in america e nessuno l'aveva mai portato la rai l'ha tradotto l'ho visto su rai play oggi da premettere io ho visto in questo momento che sono il primo in italia nel senso sono il primo a mettere la recensione di cobweb se vi va iscrivete al canale lasciami piace commentate cercate di spingere il mio video perché sicuramente qualcuno mi copierà gli altri canali horror sono così non hanno una loro personalità quindi partiamo con questo film oro che mi è davvero piaciuto un botto vi giuro un botto era da un bel po che non vedevo un film veramente valido e chi mi conosce chi mi segue lo sa benissimo che veramente su 100 film forse 10 se ne salvano e 90 è merda invece questo cobweb ha le carte in regola per essere un horror più che dignitoso un ottimo horror secondo me la trama è semplicissima abbiamo questo ragazzino peter con questa sua famiglia un po strana un po oscura siamo quasi quasi alle porte di halloween quindi un'altra cosa molto bella che mi piacciono i film horror quando c'è l'ambientazione un po che siamo alle porte di halloween si dice no che è scomparso una bambina mentre faceva dolcetto e scherzetto non si sa che fine abbia fatto e la famiglia è molto protettiva nei confronti di peter lo vediamo è molto come posso dire proprio attaccata al nostro protagonista peter e peter anche viene bullizzato classica cosa no vista rivista lo so no il classico protagonista ragazzino che viene bullizzato a scuola ma secondo me ha un senso qua nel senso che tutto si collegherà poi alla fine di questa cosa del bullismo e ci rendiamo conto che peter non lo so sente qualcuno una voce di una ragazzina dietro il muro della sua camera il problema non sa se la sua immaginazione se un un'entità maligna non lo so che forse lo prende in giro finge di essere qualcun altro e per niente inizia diciamo a anche a sospettare dei suoi genitori che hanno dei comportamenti davvero strani anche fanno dei discorsi un po così e anche delle punizioni un po severe per il nostro peter abbiamo un'ottima fotografia come protagonisti i genitori sono interpretati per niente il padre e il protagonista di banshee la serie tv che vi consiglio di vedere la madre è una delle protagoniste della serie shameless mezzo non abbia bisogno di presentazione soprattutto shameless e in ragazzino non l'ho mai visto però vi devo dire che è veramente bravo non è di quelli là che fa lo sappiamo no che queste relazioni di solito un po stanno su cazzo un po a tutti invece no è molto simpatico anche è bravo quindi qua l'orrore è qua la cosa l'orrore è quando tu non vedi non sai inizi diciamo a brancolare nel buio come il protonista cioè a domandarti boh che sta bambina che è scomparsa ci entrano i genitori di lui chi è questa persona questa entità qualcuno che è dietro il muro e ci sono anche incubi veramente terrificanti ben strutturati del nostro protagonista che sono veramente ben fatti che mi hanno fatto mi hanno messo un po di brividi dietro la schiena devo essere sincero un po di brividi me l'ha fatto venire secondo me se siete belli da soli tutto a buio una bella scagazzata ve la fa fare questo film e questo è lo secondo me sì ci sono alcuni jumpscare abusati nel senso per perché va di moda metterli è vero lo dico la verità ci sono questi jumpscare ormai che sembrano di la prassi ecco metterceli però la storia la trama no di questa non abbiamo la questa cosa no e trasferissi in una casa no già loro ci vivono in questa casa da una vita cioè non abbiamo il cazzo di trasloco e questa cosa già per me guadagna tanti punti ragazzi perché veramente se traslocavano e c'era qualcosa dietro il muro io staccavo non me lo vedevo più il film cioè e la cosa è che si va a palestare questa cosa dietro il muro dopo tanto tempo che lui prende vive in questa stanzetta quindi vi ho detto ci sono tante scene valide abbiamo un'ottima regia un'ottima fotografia ottima recitazione di tutti gli attori la location che è la casa mi ha ricordato un po' la casa nera mi ha ricordato the boy mi ha ricordato altri film horror che secondo me però ha fatto a modo suo critica un po' la società un po' le scuole no che non riescono a stare appresso a tutti no ai ragazzini un po come peter vediamo questo discorso che si fa perché c'è proprio questa maestra la maestra di peter che si interessa a lui nel senso che si preoccupano di come va a casa su se subisce delle violenze in famiglia eccetera e ci fanno capire che prende questi maestri che so che ne so dieci maestri in una scuola con tipo duemila ragazzini come cazzo vai a scoprire tutti i problemi che hanno come fai ad aiutarli e qua fa capire che ci vorrebbe un qualcosa in più ci vorrebbe qualcuno che si interesserebbe di più di questi ragazzini quindi film horror anche una denuncia su questo aspetto no di del bullismo di della scuola che certe volte se ne lava le mani e non riesce neanche a capire come come si deve muovere quindi anche su questo mi è piaciuto tanto il film però non voglio dirvi altro non voglio rovinarvi la sorpresa il film vi ho detto è fatto bene e horror così ce ne vorrebbero di più perché il vedere troppo in un film non ci siamo quando ti fa lasciare ti fa vedere non vedere la tua immaginazione lavora ancora di più e la ti crea davvero il l'atmosfera giusta perché la nostra immaginazione infinita lo sappiamo no e quando te lo mostrano dice ok me l'ha mostrato amen è finita lì invece la curiosità vi 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 mangerà proprio fino alla fine del film vorrete sapere che qual è la verità di tutto ciò di questa casa cosa nasconde la famiglia la casa il loro terreno eccetera eccetera io vi ringrazio se siete fino a qua veramente grazie mille vuol dire che avete visto il video fino ad adesso io vi invito a iscrivervi al canale lasciate mi piace commentare attivate la campanella a fare tutto quello che potete fare per spingere questo video perché sicuramente ragazzi qualcuno mi andrà a copiare nel senso che ogni volta che faccio delle recensioni di film un po underground nel senso che non ne parla nessuno ne parla qualcuno modo di dire underground lo so che è un film questo qua commerciale però che meritava di essere portato e rai ha fatto un ottimo lavoro a tradurre un italiano perché merita merita speriamo un'edizione blu ray dvd qualcuno si acquisterà i diritti che ne so midnight factory lo spero tanto perché ci può sarebbe molto bello da avere in collezione questo film quindi io vi ringrazio nuovamente vi saluto ora partiamo con gli spoiler quindi se non avete non avete visto il film io vi consiglio di chiudere il video andare su rai play vedervi film e casomai ritornare qua e sapere un po cosa ne penso del finale cosa ne penso diciamo di quello che accade quindi vi ringrazio a tutti ci vediamo a se casomai avete visto il film perché il film merita mi raccomando non voglio che si fanno spoiler non voglio che vi fate spoiler allora partiamo con gli spoiler praticamente scopriamo che questa entità no che pensiamo che può essere un fantasma qualsiasi altra cosa un'entità malegna invece la sorella la sorella che è stata messa dietro un muro e a vivere lì dentro a crescere lì perché per niente è nata deforme in viso e questa cosa che per niente quando lei esce no che lui la libera e uccide anche i suoi genitori perché lei consiglia di metterci del veleno nel cibo i genitori muoiono e dice non sai cosa hai fatto da lì si scatenarà per niente la furia della sorella che per niente è riuscita a sviluppare delle cose incredibili come arrampicarsi muoversi velocemente come fosse un ragno e sti capelli lunghissimi 15 metri di capelli pieni 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 di ragni davvero raccapriccianti e quindi qua ritornerà questa cosa vi ho detto del bullismo ovvero questi ragazzini che si vogliono insieme ai cugini fratelli non lo so più grandi che si troveranno solamente che la morte che moriranno sotto le le unghie e le morsi della sorella e qua si presenterà anche la maestra che cercherà di aiutare peter ce la faranno e butteranno giù la la sorella da questa botola è una delle cose più che fa più paura secondo me che ha messo metterà tanta ansia a tanti spettatori ovvero il discorso che farà la sorella di peter ovvero è inutile che tu mi metti qua dentro puoi fare quello che vuoi ma alla fine tu ogni giorno quando andrai a letto quando quando sei buio nella tua stanza non sai dove mi potrò nascondere non sai da dove io potrei sgattolare fuori e prenderti o farti spaventare questa cosa non è fatta molto bene perché il film si chiude proprio così di questo discorso è così proprio lo spettatore va proprio con la cagarella in mano a letto è un po spaventato perché poi l'immaginazione poi fa tutto il resto lo sappiamo già no quindi penso che questo film sia stato più che valido e entrerà nella mia top anche se il film è uscito l'anno scorso in america ma noi calcoliamo sempre l'uscita italiana quindi per adesso il film come è uscito in italia adesso da un paio di giorni per me è novità per forza deve essere novità ragazzi mi dispiace anche se il film è vecchio di dieci mesi fa che è uscito l'anno scorso in america io vi ringrazio nuovamente spero che nessuno si è fatto spoiler perché mi dispiacerebbe tanto ci vediamo un prossimo video mi raccomando e anche mi raccomando ai canali copioni cercate di farvi cercate voi film porca puttana non copiate me porco giuda che poi mi pestate i piedi e faccio meno visual per colpa di gente come voi questo qua è diretto a questi canali horror che non hanno un cazzo da fare e sono venuti dopo e rompono pure i coglioni cioè io che sono qua mai da sei anni sono qua su youtube da 2018 mi da un po' fastidio questi qua che cercano sempre di copiarmi e portare o anche i miei format vanno a copiare e lo so voi direte io ma mica tutti questi iscritti lo so ragazzi ma ci sono gente che ha meno iscritti di me e rompe il cazzo questa non voglio vantarmi non voglio essere qua a dire che c'ho un sacco di iscritti niente però io vi invito se vuoi farmi arrivare 2000 iscritti e vi ringrazio anche di iscrivervi al canale fate iscrivervi a chiunque parenti amici quello che volete voi vi ringrazio veramente per chi lo fa perché è una grande mano che date al canale se volete invece fare qualcosa in più c'è il super grazie che il cuoricino se volete donare qualche soldino e ad aiutarmi a migliorare ancora di più il canale e tutto il resto noi ci vediamo a un prossimo video grazie a tutti veramente per l'attenzione e l'hashtag non copiate